Star Casino Sport Siamo quest'oggi il campionato di serie B, serie C e serie D inglese Quindi in questo episodio non vi consiglierò però tre squadre, quindi con tre progetti diversi Vi consiglierò due squadre con due progetti diversi per ogni campionato di quelli che vi ho appena citato Quindi le serie inferiori presenti su FIFA in Inghilterra E sappiamo che sono comunque campionati sempre molto intriganti Secondo me sono, anche se li stiamo trattando per ultimi, i campionati più belli per affrontare una carriera ben fatta Duratura, che vi appassioni su FIFA Sono i migliori, sono i migliori campionati che ci sono Scoprete tra pochissimo quali sono le squadre che andrò a consigliarvi Importantissimo, commentate qui sotto, scrivetemi quale campionato affrontare nel prossimo video Oppure fatemi sapere se volete un consiglio generale Oppure dei consigli dettagliati, come muoversi sul mercato Comunque in caso scrivetemi semplicemente che campionato affrontare nel prossimo video Che potrebbe essere l'ultimo, non si sa ancora ma potrebbe essere l'ultimo Quindi mettete un mi piace, commentate qui sotto, per me è molto importante Allora, andiamo a scegliere l'allenatore, in Inghilterra va benissimo lui Ed eccoci qua, allora League 2, League 1 e Championship Partirei dall'ultimo campionato, cioè quello, la Lega più bassa, quindi la League 2 Se volete divertirvi, partite dal Barrow Squadra fondata nel 1901, molto antica, soltanto un milione di budget La squadra che ha il budget più basso di tutta la League 2 Stemma particolare, vi consiglio di leggervi magari su Wikipedia la storia Per appassionarvi ad una scuola del genere, per fare un progetto duraturo Magari portarla in premiere in 6-7 stagioni, è una cosa fattibile Altro consiglio simile Squadra con maglia abbastanza ambigue, vi consiglio il Forest Green Un milione di budget, quindi un budget comunque sostanzioso per un campionato del genere Ve la consiglio, ha uno stemma particolare Non è mai arrivata se non sbaglio in League 1, quindi potreste portarcela voi Passiamo alla League 1, quindi aumentiamo di un livello, passiamo alla Lega Superiore Dove ci sono già squadre più importanti anche dal punto di vista del nome Campionato non facile perché è la Serie C in Inghilterra, alla fine Ci sono squadre comunque storiche e adesso vi consiglio le due per cominciare una carriera Parto dal Sunderland Avrei tantissimi motivi per consigliarvi il Black Hat Vi consiglio di guardarvi la Serie TV È davvero un progetto interessante e romantico Dato che è una squadra comunque molto importante Che naviga in cattive acque da qualche anno Ha un buon budget, ha costruito un bel settore giovanile Secondo me avete fin da subito i stimoli e la possibilità di togliervi veramente tante soddisfazioni Con un progetto del genere L'altra squadra che invece vado a consigliarvi è una squadra un po' più debole diciamo Un milione e mezzo di budget Ha soltanto una stellina Il Rockdale è secondo me una di quelle carriere che può farvi appassionare Colore societari bianco-blu e anche il nero Avete visto la maglia qui sotto a strisce nero-azzur Alla fine nero-blu Pochissimo budget Però secondo me è una carriera intrigante Si può costruire attorno a questa squadra Altro granino superiore Quindi arriviamo direttamente al campionato più importante dopo la Premier League Ovviamente stiamo parlando della Championship In Championship potrei dirvi qualsiasi nome Penso che ci siano veramente poche società in Championship Che non vi consiglierei sinceramente Perché mi piacciono quasi quasi tutte Sarebbe quasi inopportuno però comunque lo faccio Perché davvero ci sono tutte squadre interessanti con cui si possono costruire progetti duraturi nel tempo Perché già il passaggio da questo campionato alla Premier vi apre dei mondi comunque allucinanti secondo me Comunque vado a consigliarvi così per dover di cronaca vado a consigliarvi comunque due squadre Quelle con cui comincerei io Wicomb è squadra di Akinfeia Da prendere solo per lui ed è una delle squadre col budget più basso Altra squadra che mi piace veramente tanto Antichissima 1875 Ha vinto per tre volte il campionato E per sei volte la Coppa Nazionale Il Blackburn Rovers Se non sbaglio non tornano in Premier League da tanti anni Secondo me è il momento di far tornare il Blackburn Rovers Secondo me è data una certa comunque storia della società Portarla in Premier e farcela stare costruendo una squadra molto molto forte Questi sono i miei consigli quindi per questo episodio Mi raccomando lasciate un mi piace Un commento qui sotto Commentate in tantissimi Fatemi sapere qual è il prossimo campionato da affrontare Ditemi cosa le pensate di queste squadre Un abbraccio a tutti da Kundispa E noi ci vediamo settimana prossima con un prossimo episodio